Benvenuto a questo nuovissimo video, il nuovissimo gameplay, ragazzi grazie mille per i 150 iscritti questo qui è il nuovo speciale dei 150 iscritti e anche il nuovo gameplay che state vedendo adesso ragazzi spero che vi piace, 5 mi piace, prossimo episodio ragazzi andate nella pagina di facebook perché in questi due giorni o in questa settimana o quell'altra faremo un raduno insieme a Michele questo raduno per ringraziarvi e poi ovviamente nel server, su facebook si è scritto anche nel server e in che ora e in che giorno, allora ragazzi in questo gameplay però vi ho capito come si gioca dobbiamo andare con questi aerei, ovviamente piano piano che cresceremo, gli aerei saranno sempre più forti e ovviamente gli aerei che sono più forti questo qua diciamo è il mio esercito di aereonatica e va bene, allora vi faccio vedere, eccolo qua questi qui sono tutti i miei aerei, questo qua tutti gli aerei speciali diciamo premium, ovviamente qui sono gli aerei che dobbiamo sbloccare ovviamente ci sono anche diversi tipi, c'è tra cui la Cina, negli Stati Uniti se non sbaglio e vabbè poi mi sembra il Giappone, io uso meglio che sì perché sono quelli più forti allora oggi facciamo una partita, quindi spero che vi piaccia perché non so perché è la prima volta che lo registro e di realtà non so anche come si vede perché se si vede male ovviamente la prossima volta non lo riporterò ma penso che si vede bene allora ragazzi spero che comunque mi è piaciuto il video di ieri della farming che abbiamo fatto allora ragazzi questi qui è l'aereo che dobbiamo selezionare io vi consiglio sempre da quello più debole perché dipende anche dal tipo di aereo cioè dal tipo di giocatori che stanno, se sono quelli più forti ovviamente voi utilizzate gli aerei più forti e anche il tipo di botte di opiettivi allora come vedete in sinistra basta a sinistra forse metterò anche una freccia vi faccio vedere, c'è un quadratino rosso dove lì sono gli aerei da distruggere e uno scudo, sono i carri armati da proteggere quindi non devono distruggere quindi noi dobbiamo distruggere gli aerei per ora cioè adesso, io vi consiglio di mettere questa grafica perché avete più il controllo dell'aereo quindi loro si abbassano sempre colpito devo non distruggere un aereo, devo distruggere un aereo vado di, vado di, vado di, vado di non andare in sopra al carico ok, vecchio, sembra che sto seguendo qualcuno vai che amore, vai che amore, vai che amore, l'ho colpito lo sto colpendo anche se è più forte di me, quindi è da dire vai che amore, vai che amore è morto, è morto, domina, lo elimina cioè, lui l'ha eliminato però io l'ho ucciso mi rubano sempre sono colponico allora perché tu ti mi fatti con me cosa è il prossimo in un'unione ragazzi, come vedete, con serio piccola ma è più facile da manovrare perché l'aereo grande, abbastanza visto che sono grandi, sono anche abbastanza pesanti vabbè, poi ovviamente hanno più genuta, ma qui riuscite anche a girare meglio venete lui a difficoltà a girare e non è andato in sopra al carico invece con quell'aereo si ma lo distrutto, ma lo distrutto, ma lo distrutto non so quante aereo sto colpendo che qui se la prende a passi va, va, va no, si è di patata io ce l'ho dritto ce l'ho tutto dritto, dove? ce l'ho dritto, vai 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 perché? per quale motivo? non so quando, ma cosa succede se io lancio la bomba se non so, cosa no no, ma cosa succede? ma quello di squamere ma perché mi lo guardano le kill? muori, 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 muori non devo, non puoi schiantare tu, di caprile, dimmi ci c***o vabbè, allora, sei deciso io cos'u puoi essere perché? va beh perché? la piccoli non deve pensi di andare devo pensi di andare nono no mi son colpendo chiudo 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 mi son colpendo non sei chiudere qui ed lui scappa 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 usa la tecnica ma che tecnica hai sopra guardausolhhhh guardausol 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 andiamo a fare pressione, la vittoria è vicina sto andando alla base ragazzi giù 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 girato vinto, l'ho vinto sono decime comunque ragazzi ma perchè mi hai dato la ricerca se poi ho zero di questi fatti vabbè allora ragazzi visto che mi piace tanto adesso voglio fare uno con i cararmati però con i cararmati eccolo ma questi sono eventi torno a torni battaglie personali ah cioè quindi loro creano una sessione dove loro possono entrare qualche giorno farò adesso voglio fare ok ragazzi sto per iniziare finalmente il primo cararmato che mi è venuto in mente perchè in verità ancora non ci ho mai giocato la grafica è tocca ma ovviamente è bellissima però un secondo me lo spawn me lo hanno settato perchè spara? perchè spara? che sta succedendo? da qua lo ripunto A eccolo qua il nostro punto A andiamo sul nostro punto A quindi poi mentre giochiamo sblocchiamo anche dei livelli dove noi possiamo anche sbloccare di di cararmati questo è anche un bel gioco perchè comunque è difficile è difficile comunque non è facile ragazzi mi ricordo che nella simulazione se non mi sbaglio combattono anche i cararmati i cararmati quindi se vogliamo essere cararmati è un cararmato morto no 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 non spara non spara no 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 spara 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 dove? dov'è? capito porti porti capito stai facendo male ho perso lo fatti a gestare come fai? morto? ecco morto morto? è normale con un cararmato così di merda così di merda vedi che come ma perchè se ci sia non funziona? abbiamo preso l'iniziativa andiamo nella base A ci sono gli aerei ma perchè noi non giochiamo niente e loro hanno gli aerei cioè non si può intanto loro però stanno perdendo i punti vedi della barra rossa sta scendendo aiuto aiuto sbagliato spara sbagliato no ma si muore quando si muore no ma si muore spara 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 muore lo sto colpando tante volte le sto colpando tante volte senti arpa niente Mezz'ora per caricare! Mezz'ora! Si! Distrutto! Oh nooo! Non è giusto! Qui è la scoppia del motore! Ragazzi possiamo attaccare le fagole aeree! Vabbè ragazzi comunque per oggi è tutto! Seguite su video e like in commento! Ragazzi penso che basti perchè usarei distrutto il tempo! 27 minuti e non so anche se uscirà il tuo nome! Cioè quindi non so se uscirà l'un idioma di me! Perchè dati come ho fatto il video! Quindi ragazzi spero di lasciare un like in commento! E noi ci vediamo! A un prossimo video!